Ci ritroviamo a Santa Caterina, scenari da dove partì 30 anni fa anche una formazione regina che ha scritto pagine importanti della palla canestro. Abbiamo novità, novità rilevanti. Santo Surace. Sì, partì da qui la gestistica per Giorgio Frassati, poi nel tempo modificatasi il nuovo basket Frassati fino a diventare l'associazione Basketball Archie, quindi ABBA. E purtroppo dopo 30 anni l'ho tenuto in vita negli ultimi due anni con enormi sacrifici perché volevo che raggiungessi i 30 anni. Avrei anche voluto fare una festa di addio coinvolgendo tutti quelli che in questi 30 anni si sono succeduti soprattutto come atleti, però purtroppo il tempo a me manca, le risorse economiche non ci sono più non sono più in questo momento di crisi neanche reperibili in qualche modo per cui dico un accordo con i ragazzi che in questi due anni si sono sobbarcati anche parecchi oneri di gestione e abbiamo deciso di non rinnovare più l'iscrizione. Che scade peraltro domani, quindi mi sembrava giusto informare te che sei il network principale che si occupa di pallacanestro, non solo a Reggio anche in Calabria, in modo che lo sappiano anche quelli che in qualche modo sono stati legati alla storia di questa società che il mio malgrado e il malincuore domani si chiude. Stava un anno abbastanza particolare, una serie di sicuramente non come due anni fa dove la promozione aveva sicuramente ridato grande forza a questa società che ha scritto pagine importanti in C regionale e non solo, tanti giovani sono passati da questa squadra. Qual è il ricordo più bello? Guarda, il ricordo più bello ce ne sono due, uno non mi appartiene perché io ancora non c'ero e la società raggiunse anche la C nazionale e gente come Speranza ad esempio, come Gira, come Sant'Ambrogio di cui mi pare se non vado errato Franco è stato uno anche dei fondatori, hanno scritto pagine indelebili di questa società. Per quanto riguarda il mio ricordo più bello ce ne sono tanti, c'è stato il primo anno di C2 quando è stata istituita la C2 e siamo arrivati a pari merito primi insieme al Pellaro e alla Viola e passò il Pellaro per andare allo spareggio. Ce ne sono tantissimi, quello che più mi è rimasto è poi quello ultimo che mi riguarda personalmente perché poi negli ultimi due anni io non c'ero che è stato l'aver battuto in semifinale il Soverato in casa, il Soverato che era una corazzata che poi salì e vinse il campionato. Sono passati tantissimi ragazzi, io fino all'anno scorso che ho allenato quando andavo sui campi e incontravo soprattutto le squadre di Reggio e dicevo io nella mia mente questo l'ho allenato, questo l'ho allenato, questo l'ho allenato e siccome ho sempre allenato lì è chiaro che sono passati parecchi da lì. Ma alla fine tante squadre mollano, anche squadre di una portata storica importante come l'ex Frassati poi diventata Abba, fondi non ce ne sono, sponsor non ce ne sono, i parametri hanno affossato completamente il movimento, state pensando come gruppo di amici di partire alla promozione, come stanno facendo ormai tutte le società? Questo è il primo pensiero che ci è venuto oggi quando ci siamo sentiti con Peppe, a proposito volevo fare un ringraziamento particolare a tutti quelli che si sono succeduti nella Frassati ma soprattutto a quelli storici, non voglio omettere nessuno, però Di Grillone, Beatino, La Tella e Priolo lasciami dire qualcosa in più perché io quando sono arrivato alla Frassati loro c'erano, stiamo chiudendo e loro ci sono, quindi questo è importante. Sì è la prima cosa che ci è venuta in mente parlando con Peppe oggi, ma non so quanto convenga in questa federazione, perché sinceramente al di là di tutto continuare a dare soldi a una federazione che per un movimento minore, non parlo della mia squadra che sta chiudendo, non fa niente, non mi sta più bene, ma neanche le 350 Euro di affiliazione, è una cosa, gli ho detto anche che esistono magari i campionati paralleli del CSI, della WISP, forse qualcosa di questo, tanto ti diverti lo stesso, quindi le partite le fai lo stesso, non hai stress, non hai cose, per cui non credo, questa federazione non merita niente perché la federazione nazionale parlo, non mi riferisco, che ha scelto un Presidente solo di facciata, che non ha mosso un dito per la pallacanestro, ha portato non lui certamente, ma il movimento a non qualificarsi né per gli europei, né per le Olimpiadi, né per niente, cambiando allenatori, sperperando soldi, ma perché devono vivere sulle mie spalle? Che facessero un'altra cosa, vogliono rinvigorire il movimento, soprattutto in queste regioni come la Calabria, perché magari in Lombardia questi problemi non ce li hanno, allora che diano un segnale e dicono se tu vuoi fare la C2 devi pagare 5 mila Euro, se vuoi fare la D ne paghi 3 mila, se vuoi fare la promozione ne paghi 2 mila, si sanno i costi all'inizio, sono quelli, un gruppo di amici riesce a trovargli questi soldi e piano piano si fa rinnamorare la gente, perché è quello che poi fa il movimento, la gente che si avvicina a questo sport, quando io crescevo, quando tu eri piccolo e crescevi, non era solo il fatto esclusivo che la Viola avesse la Serie A, che era una cosa importantissima, ma molta gente si appassionava anche alle partite minori, oggi sì succede, ma succede perché le squadre sono di meno e le partite te le vai a vedere il sabato e la domenica, una volta tutti avevano il loro spazio, io mi ricordo quando hanno iniziato a fare allenatore fuori dalla Viola, c'erano un sacco di società che muovevano gente, non soldi, gente, non esiste più questo. Qualche anno fa, nemmeno tanti, forse quattro, Santo Surace da dirigente bar allenatore aveva raggruppato una sorta di mini network, c'era la Zurrina, la Frassati, la regina maschile e femminile, lì c'era voglia, c'erano soldi, che cosa c'era rispetto ad oggi? C'era anche l'Antarsi, non c'erano i parametri innanzitutto, perché è stato mi pare sei anni fa se non sbaglio, subito dopo la mia buona avventura o disavventura ospedaliera, quindi nel 2006, non c'erano parametri, non c'era questo periodo di crisi, ti lasciavano lavorare fra virgolette, perché io avevo tentato di fare qualcosa a Pellaro dove non ci siamo riusciti, perché non avendo la possibilità di avere dei fondi necessari, perché tutto nasce da un settore giovanile, questo io non me lo nascondo, ma per farlo è inutile che ci prendiamo in giro, i settori giovanili non sono quelli che ci sono qui, i settori giovanili vengono fatti formando istruttori, avendo le risorse per investire sugli istruttori, avendo gli impianti e quindi poi coinvolgendo il maggior numero di bambini, io parto dal piccolo, di bambini senza curarsi di risultati, senza curarsi di niente, facendo movimento intorno e poi da lì fare una selezione naturale che la fanno logicamente il talento, la tecnica e quello che ci mette. Avevo cercato di fare questo a Pellaro, perché la consideravo ancora una zona vergine, qualcuno si era avvicinato, ma poi non c'erano le risorse economiche per poter andare avanti in questo e in più tante persone del movimento, perché poi il reggio è questa, ha cominciato a pensare che chissà quale interesse recondito potessi avere io nel tenere 5 società, chissà quali soldi mi ero fatto, io soldi neanche in banca ce ne ho, ho una macchina scassata, sono fiero di camminare a testa alta, soldi col basket non ero fatti ma ce l'ho sempre rimesso, anzi ho anche qualche debito del basket, quindi lo facevo solo perché il basket è stata la mia vita, mi ha aiutato nei momenti neri, in tutto quello che mi è successo, mi ha consentito di pensare ad altro e pensare a qualcosa di costruttivo, penso di aver fatto qualcosa nella mia vita per il basket, sempre a livello minore intendo, quindi il motivo di aver lasciato quelle squadre è stato oltre a un fatto economico, il fatto anche che chissà quale invidia suscitava la mia persona, avevano cominciato a mettere il bastone tra le ruote, per cui ho pensato che era meglio tenermi una società, che poi erano due perché avevo tenuto anche la femminile e la regina dove tu hai giocato, e lasciar perdere il resto perché sarebbe stato, e così l'Antares allora l'avevo lasciata a quei ragazzi che facevano l'addico al Botteghelle, l'Azzurrina l'avevo lasciata nella disponibilità ma non l'ha presa nessuno di chi la volesse e quindi erano rimaste praticamente poi due sole società. domanda, per tutto l'anno dopo la promozione con la Vis, poi diventata Redel, non l'abbiamo più visto sui campi Santo Surace, che è successo? stacchiamo la spina per ripartire un domani con più voglia o c'è dell'altro? guarda, la voglia di pallacanestro a me non manca, però sinceramente, e ne voglio volgarmente detto sputare nel piatto dove ho mangiato, dove ho mangiato non economicamente, dove ho vissuto per tanti anni, però avevo bisogno intanto di staccare la spina perché era stato un anno stressante, molto stressante, culminato fortunatamente con la promozione dove ho conosciuto dei ragazzi, parlo dei giocatori soprattutto, sono quelli gli artefici con cui ogni tanto mi sento anche, sono rimasto legato al di là di tutto, avevo bisogno di staccare la spina e poi è un mondo che non mi piace più, non mi piace più perché vedo troppi interessi, vedo troppe invidie, troppe gelosie, non è cambiato niente, io sento parlare ora perché seguo il basket grazie a te, al tuo reggio a canestro, ogni tanto sento parlare, leggo interviste, sinergie, tre squadre, quattro squadre, non si andrà mai da nessuna parte, si potranno anche fare di facciata queste unioni, ci saranno sempre le gelosie che dividono e le invidie che dividono, perché purtroppo il carattere nostro del Regino è quello, noi pensiamo sempre di metterci in mostra singolarmente, non pensiamo di fare un passo indietro tutti per farne un avanti, io ne ho avuto esperienze dirette, sono stato il primo, penso, nella storia a Reggio a fare un rapporto di collaborazione in tempi non sospetti con la Target che per tanti versi è andato positivamente, per altri un po' meno, ma poi è normale anche che nel tempo le cose evolvano e magari si sciolgano perché poi eravamo due realtà piccole, però quando pensi di fare altre cose purtroppo ti scontri con le realtà, ognuno pensa di avere un piccolo orto in mano e non vuole cedere un pezzettino per fare un muro di cinta comune che sia forte.